Per carità, il mio è un complotto, il mio è un complotto, è di sti tempi brutto dire di essere complottisti, io un pochino complottista lo so, sarò sincero, a me piacciono quei complottini, quei complotti light, quei complotti low calories, no, quei complotti che non fanno male a nessuno, ma dai, cioè sono quelli che ti riempiono la giornata, vi faccio un esempio, i vaccini fanno bene, fate benissimo a farveli, eccetera, però invece il bifidus non esiste e la Marcuzia è nipote di Soros, questo lo sappiamo tutti. Sulla luna ci siamo stati, è stato bellissimo, è tutto, però il video dell'allunaggio è un falso e l'ha girato Pieraccioni, infatti se guardate bene c'è Massimo Ceccherini che sbuca da un cratere e fa tappami levante, è tutto registrato.